Mambo Italiano La sensazione che ho io è che abbiamo uno strano strabismo perché noi raccontiamo un pezzetto alla volta tutti gli episodi che sembrano singoli ma se riuscissimo a metterli insieme vedremo che forse di fatto siamo già in guerra? Purtroppo il mondo di oggi a cui ci dobbiamo abituare è molto diverso da quello del passato dopo la caduta del muro di Berlino la caduta dell'impero del male dell'Unione Sovietica pensavamo, sbagliando, che ci sarebbe stata una vita più facile da vivere per noi occidentali, per noi europei non è stato così oggi c'è una fibrillazione generale focolai da tutte le parti ieri ha denunciato il presidente dello Yemen il colpo di stato in base al quale è stato cacciato oggi vediamo che non a caso si colpiscono gli isciti in questo caso da parte dei sunniti perché si considera che sia l'Iran quella che ha tenuto un po' le fila della vicenda dello Yemen paese che io conosco bene che è peraltro un paese straordinario bellissimo ma dove non è più neanche possibile andare a fare i turisti come si faceva fino a qualche anno fa il dramma che fra un pochino neanche davanti casa nostra in Tunisia a 140 km sarà possibile andare la Tunisia non è stato un caso non è stato un caso perché è l'unico paese dove le primavere arabe sono sfociate in un Parlamento eletto democraticamente in uno Stato che si sta riorganizzando in un'elezione dove i partiti laici sono riusciti a contenere l'islamismo ma anche lì gli islamici non sono così estremisti hanno accettato di perdere il potere in modo democratico si colpisce la Tunisia davanti alle nostre coste fattore di stabilità dell'area si vuole colpire quel paese allora questa era Torino ferita vorrei dire una cosa nella semplicità di queste persone hanno detto cose molto intelligenti e soprattutto hanno dato un messaggio che è quello che va dato anche dalla televisione perché la televisione deve servire a questo qui non c'è uno scontro tra religioni diverse qui c'è qualcuno che insidia la civiltà e la convivenza tra religioni diverse avete fatto bene a intervistare queste persone tunisine che stanno a Torino perché loro professano una religione diversa dalla nostra vengono dall'Africa non sono europei come noi ma sono persone come noi bersagli di questo terrorismo ed è un bersaglio che colpisce simbolicamente parlamento e museo popolo che elegge il suo parlamento i suoi rappresentanti e mondo della cultura e le immagini contro il museo sono le immagini di devastazione alla cultura che ci derivano dalla Siria dall'Iraq dove vediamo questi assatanati a distruggere le vestigie del passato cioè della nostra storia della tradizione perché si cerca di sradicare la tradizione nostra loro e di tutta la civiltà la stessa cosa che facevano i talebani in Afghanistan quando distruggevano quegli straordinari questi straordinari monumenti che c'erano ancora scavati nella roccia e che eravamo riusciti a preservare mi dice una cosa cosa dobbiamo fare? perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come è noto è una persona molto moderata ha detto non c'è tanto tempo bisogna intervenire cioè il pericolo è tanto vicino cosa dobbiamo fare il nostro paese? le parole di Mattarella credo che sono le parole e lo stato d'animo di tutti gli italiani per cui giustamente il Presidente della Repubblica ha detto non ci facciamo intimorire vedete anche qui non si sa più dove andare perché una persona che io conosco in questi giorni mi ha chiamato deve partire per lavoro per la Tunisia e dice posso andare? ma dico qui purtroppo non si è più assicuro da nessuna parte per cui non è che uno in particolare sulla Tunisia qualcosa si potrebbe fare perché no scusa volevo terminare scusa ti do asciuto la parola adesso poi sentiamo anche Marcello facciamo finire poi sentiamo Marcello certo bisogna avere un approccio coerente rispetto al Mediterraneo che noi non abbiamo perché in tutti questi anni non abbiamo fatto la politica di vicinato nel Mediterraneo e dove siamo intervenuti lo abbiamo fatto in modo contraddittorio Obama è stato eletto Presidente degli Stati Uniti ha detto che la sua priorità era la questione palestinese israeliana e ancora lì peggio di prima la Turchia abbiamo aperto le porte dell'Europa alla Turchia il giorno dopo la Francia e la Germania li hanno richiuse cioè se vuole continuiamo ma non voglio i terroristi vogliono che noi non viviamo la nostra vita normalmente e vogliono portarci esattamente a uno stato di guerra permanente ora noi dobbiamo alzare il livello della prevenzione e della vigilanza combattere duramente laddove ci sono come in Libia questi terroristi coinvolgendo gli stati islamici perché se no diventerebbe una guerra quasi loro la rappresenterebbero come una guerra di religione come un nostro neocolonialismo e sarebbe un errore ma soprattutto bisogna stare molto attenti che quella bomba di cui parla Marcello sorgi in Tunisia è costituito anche dal 50% di giovani disoccupati noi europei dopo la primavera araba avevamo detto ci impegniamo come Europa a dare alla Tunisia X allora io non voglio fare errori sulle cifre perché non ho la precisione dovrei vedere i dati li ho letti questa mattina noi abbiamo dato alla Tunisia un sesto di quello che l'Europa si era impegnata a dare e c'è una situazione che è una bomba generazionale li abbiamo lasciati soli c'è la croce nel simbolo di tanti comuni italiani destra sinistra centro non c'entra c'è la croce e la cristianità è il segno della nostra storia noi siamo un paese pieno di chiese di simboli religiosi eppure ci sono tantissime persone che vanno in chiesa e tantissime forse la maggioranza che non ci vanno ci sono cristiani persone che hanno il dono della fede e gente che non crede affatto ma tutti rispettano quei simboli o la gran parte perché ciascuno di noi capisce che quelle sono le nostre radici la nostra storia e da dove veniamo se qualcuno studia se i nostri bambini studiano la nostra storia studiano parte di quella storia e in quelle croci c'è giustamente il segno di una nostra civiltà e Galli della Loggia avevo letto il pezzo dice giustamente dice noi non saremo mai neocrociati ma se questi prendano bersaglio quelle croci allora noi dobbiamo far capire a tutti che quelle croci non sono un simbolo religioso prima di questo sono il segno della nostra libertà perché noi vogliamo che in Italia nell'Italia che costruiamo per i nostri figli ci sia la possibilità di andare in una chiesa e pregare il nostro Signore Gesù Cristo andare in una moschea e pregare l'Islam andare in una sinagoga e professare per un ebreo il suo diritto la laicità dello Stato non può essere un laicismo che impedisce di svilupparsi il senso di religiosità che è insiduto in ogni persona per cui noi perché siamo deboli in parte ma questa è una discussione lunga che sarebbe bello se fare una trasmissione apposita perché noi abbiamo avuto paura a un certo punto di dire chi siamo da dove veniamo allora Casini vuole raccontarmi una cosa su questo tema dello scontro di civiltà e delle religioni che non bisogna non bisogna avere paura non bisogna farsi prendere dal panico in modo sciocco stupido recentemente il vescovo di Imola Monsignor Ghirelli all'indomani di una delle stragi efferrate che purtroppo si ripetono disse noi vogliamo vivere assieme ai musulmani ai tanti che lavorano bene qui nelle nostre città lui appunto è vescovo a Imola ma vogliamo che come noi condannino fermamente se vogliono stare qui questi episodi ci fu un coro di disapprovazione per queste parole ritenute politicamente scorrette ritenute parole ma era un parole di buon senso è ovvio che noi vogliamo legare al nostro destino comune anche i tanti extracomunitari che lavorano sono persone per bene lavorano e vivono di fianco a noi ma vogliamo che condividano i pilastri dello stare assieme cioè la civiltà che non può che condannare fatti e ferati di questo tipo non ci sono doppi pesismi possibili non ci sono il discorso bellissimo che ha fatto al Sissi il presidente egiziano alla moschea del Cairo su questo punto proprio una sveglia all'Islam e una richiesta che l'Islam cambi rotta perché dice al Sissi se non cambia rotta saremo considerati i nemici dell'umanità abbiamo un minuto io non voglio parlare di politica interna da rispetto non le farò neanche una domanda mi dica una cosa però di prospettiva importante perché lei è un uomo politico che ne ha viste troppe per non avere una previsione da parte sua ci sono i margini per ricostruire nel nostro paese una coalizione di centrodestra? beh è una domanda dice attualmente forse è più semplice risolvere la questione libica che il problema del centrodestra italiano mi auguro per la democrazia italiana una cosa sola che ci sia me lo auguro per la democrazia italiana e per Matteo Renzi che è una persona che io stimo e che certamente copre un vuoto che oggi c'è nella politica italiana mi auguro che abbia un'alternativa seria che la sua alternativa non sia solo Salvini o Landini perché sarebbero due alternative un po' troppo semplici da combattere per lui ci dovrebbe essere una grande area popolare moderata ma certamente oggi come dico mi sembra che sia poco facile la ringrazio molto torno a trovarci presto